Per fare un po' la sintesi delle mie esperienze di questi ultimi anni, ogni tanto provo a scrivere dei post così, per condividere, per mettere alla prova il mio pensiero così, in questo modo social, sul web, attraverso il video così, e quindi anche adesso così voglio provare a fare un po' il punto di quello che mi sembra di vedere così, nelle cose che viviamo tutti quanti insieme, nel mondo, nel nostro paese, in Italia, a Napoli, tutte le cose così che stanno succedendo, tutte queste cose così, per esempio così davanti alla televisione che ti raccontano così, 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 e poi tu pensi, ma così, ma così, così, perché così? Allora dici no, perché così è questo, così è quello, così è quell'altro, così è quella, voi così, loro così, noi così, tu stesso adesso dici io così, allora così, così, poi così deve essere, allora uno poi si chiede così, così, così deve essere, non lo so, così, così, perché tu vedi tutte le cose di così, diverse, allora dici quello così, quell'altro così, io così, però voglio cambiare, voglio fare così pure io, quello che non ti segue, non fa così, fa sempre così, non fa la sintesi sempre un po' così, ecco questo volevo dire, buona giornata.